Un benvenuto da parte di Biagio Mannino. La Germania in difficoltà ulteriore. Sono emersi i dati mensili per quanto riguarda la produzione scesa del 3,1. Produzione industriale che al momento mostra gli effetti di tutto quello che la Germania sta vivendo in particolare e l'Europa in generale. La Germania è la locomotiva d'Europa che si trova ad avere una brusca frenata sotto tutti i settori nell'ambito della produzione industriale ma anche per quanto riguarda ovviamente la produzione di risorse energetiche così fondamentali alla produzione industriale stessa. Insomma un segnale evidente delle problematiche, delle difficoltà che la Germania sta vivendo e l'Europa di conseguenza anche perché la produttività tedesca si lega anche a tutti quelli collegamenti nel contesto europeo e non solo per quanto riguarda la componentistica soprattutto nell'ambito del settore dell'automobile. Problemi che come detto si sono mostrati in maniera importante nel corso del 2022, l'anno dell'inizio della guerra in Ucraina ormai vicinissima a raggiungere il primo anno. Una guerra che poteva essere sostanzialmente evitata anche perché l'assenza totale del dialogo nell'anno precedenza e la contraposizione sempre più forte nel corso del 2022 ha visto sostanzialmente una continuità nel 2023 mostrando come il dialogo di fatto si stia allontanando, anzi non si è mai stato neppure all'orizzonte, ma in questo momento come detto gli effetti si stanno vedendo sulla struttura economica della Germania e sulla struttura economica dell'Europa in generale. E tutto questo mostra anche le differenti relazioni che se da un lato l'Unione Europea va in una direzione di una ulteriore forma di contrapposizioni nei confronti della Russia, gli stati membri stanno vivendo con grande difficoltà queste relazioni. La Germania guarda alla Russia sostanzialmente come una realtà fondamentale proprio nella direzione di quella produttività tedesca così importante proprio per il mantenimento anche della stessa Europa in un contesto di competitività nell'ambito globale. L'Europa sostanzialmente si trova a vivere in una posizione di ambiguità perché se vogliamo guarda alla contrapposizione con la Russia ma contemporaneamente auspica che questa contrapposizione possa cessare prima possibile proprio per non perdere posizionamenti nell'ambito globale. I problemi mostrano come un continente privo di sostanziali risorse energetiche così importanti e fondamentali soprattutto nell'empoca contemporanea con la presenza di una Repubblica Popolare Cinese e di un'India sempre più al centro della competitività per quanto riguarda anche gli approvvigionamenti di risorse energetiche ebbene in questo contesto l'Europa di fatto si trova in una posizione di netta problematicità nell'ambito della competitività a livello globale. Stati Uniti ad ovest, India, Cina ad est e il resto del mondo ma il continente europeo sembra sempre più aver perso il senso dell'orientamento e i dati provenienti dalla Germania lo stanno sostanzialmente dimostrando. Per oggi questo è tutto.